Val di Sangro, quale futuro industriale? Questo è il tema del convegno organizzato dall'UGL Chieti Pescara in programma venerdì prossimo 25 ottobre a Lanciano. Il sindacato esprime forti preoccupazioni per il comparto dell'automotive e di tutto l'indotto. L'appuntamento vedrà la partecipazione tra gli altri dei vertici nazionali dell'UGL. Siamo abbastanza preoccupati ma soprattutto per le famiglie dei lavoratori delle aziende che operano in Val di Sangro. Attualmente la Stellantis è in crisi profonda. Ricordo che tutto l'indotto dell'automotive occupa nella zona di Chieti 23.000 addetti tra dipendenti diretti della Stellantis e indotto. Però ci sono anche le eccellenze in Val di Sangro tipo l'agroalimentare con la pasta, con i vini, con l'olio. Però siamo preoccupati per il settore industriale. Non solo Stellantis e Val di Sangro ma saltiamo anche sul Vastese con la Pilkingdon che gode ottima salute. Mentre sul San Salvo abbiamo la Denso che continua con la sua cassa integrazione a preoccupare i lavoratori e soprattutto noi sindacalisti. Si pagano scelte industriali, si pagano anche scelte che hanno portato la produzione spesso all'estero. Sì, esatto. E la produzione purtroppo le multinazionali quando cominciano a perdere un solo centesimo fanno i conti in casa e cambiano nazione tipo Polonia, Romania dove il costo dell'operai è nettamente inferiore. Quindi solo interessi delle multinazionali a discapito dei lavoratori italiani. I motivi di preoccupazione sicuramente ce ne sono tanti. Però dobbiamo cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Noi abbiamo, soprattutto per quella zona, delle grandi possibilità che sono dovute per esempio all'inserimento delle reti TNT nel corridoio europeo, nella zona la ZES che prima ZES Abruzzo adesso ZES Unica, ma sempre sono dei volani per attirare le aziende sul nostro territorio.